Bentornati adesso a Sarezzo TV, buonasera Peppe Marconi. Ciao Fabio. Stadio di atletica di Arezzo, senti come suona bene? Peccato che questo stadio di atletica ha grandi potenzialità in espresse, in parte perché comunque potrebbe candidarsi a ospitare grosse manifestazioni anche internazionali, questo doveva essere... Però mi dicono che il Veccio Campascolo era fatto molto meglio di questo. Però non poteva candidarsi a ospitare grandi manifestazioni internazionali. Ho visto anche la posizione in cui ormai si trovava, che era veramente impossibile. Siamo però qui al Camposcuola, allo stadio di atletica, perché guarda il parcheggio qui, già parcheggio, una parola un po' così, azzardata. Comunque questo sterro, questo piazzale sterrato, che però è pieno di buche belle grosse e quindi è un bel problema sia per gli atleti, sia per i genitori che accompagnano i figli, perché ridi... Rispetto alle buche che c'è in città, qui sa... Qui ce ne è belle profonde. Questo è un piazzale di terra battuta con la iaia e ci sta... Però rispetto alle buche che sono per le strade, questo è tutto dire. Sì, guarda che ci siamo venuti e non è simpatico, però penso che ci devi venire tutti i giorni qui. Vai fino al piano, perché sennò ci spacchiano tutte le palestre. Ho capito, ma uno va in un parcheggio, uno stadio di atletica e si aspetta un parcheggio decente, no? Certo, per chi è venuto fuori l'immagine non è bella. Eh, me lo volevo dire, no? Cioè, già il parcheggio sterrato, pieno di buche, metti che ci fanno degli eventi, non mi sembra... Vabbè, diciamo che l'asfalteranno fra un poco. Dici che l'asfalteranno? Sì. Chi te l'ha detto? Eh, prima o poi l'asfalteranno, perché lo possono lasciare così. Prima o poi... Prima o poi... Prima o poi... Prima o poi all'area Ex Lebole ci farà qualcosa, prima o poi la faranno la rotatoria di Via Fiorentina, no? No. Nel senso, prima o poi se la... Comunque, anche avevamo fatto un servizio simile, ti ricordi che l'avevamo fatto al centro affari anni fa, e poi effettivamente l'hanno asfaltato. Perché era così, è uguale. È vero, è vero. Eh, adesso, quando ci saranno i soldi che avanzano dai bilanci, si potrebbe sicuramente ascoltare anche qui. Ma hai detto in un altro SS, hai detto che non c'è soldi, hai detto tu? Ma hai detto, prima o poi qualche residuo di bilancio si troverà, no? Per fare... Questi si fanno con residui di bilancio. Quando a fine anno si vede che avanza qualcosa, si investiranno per fare questo piazzale sicuramente. Perché poi, insomma, soprattutto per chi viene da fuori o no, è bel vedere se effettivamente questo deve fare il salto di qualità e ospitare manifestazioni a un certo livello, eh, logicamente questo va messo a posto. E' una delle cose, perché è molto bello dentro, è una bella tribuna, cioè è bello. Le manifestazioni che sono state fatte sono state anche di successo. Peccato, dicevo, ecco, che potrebbe esprimersi ancora di più per quello che... cioè, proprio per la struttura che è, no? E si ridice la stessa cosa? No, non si ridice la stessa cosa. Nel senso che non so da cosa dipende portarci gli eventi, perché ci sono le società che sono brave a organizzare. Come mai non si riesce questo di cui... Ma vedi, noi eccelliamo molto nella podistica, hai visto? Eh, sì. Magari, per quanto riguarda l'atletica, ci sono meno società numerose che possono essere in grado di fare quello che fa la podistica. Questo può darsi. Oppure ci sono dei personaggi che non sono in grado quelli che fanno quello della podistica. Lì, effettivamente, siamo assurdi a livello internazionale. Qui, ancora, no. Vuol dire che le società non sono molto strutturali, molto importanti per arrivare a fare quegli eventi che si dicevano. Oppure c'è qualche problema che non conosciamo, che magari c'è qualche ostacolo, non so, di requisiti che non... Ma sai, oggi chi fa queste manifestazioni sono le società sportive e le società private. E quindi... Ma dico della struttura, magari ci sarebbero dei requisiti che magari... Questo non lo so, questo non lo so. Non ho fatto mai atletica, quindi non te lo so dire. Le caratteristiche di avere anche la lunghezza della pista come deve essere, non lo so. Io adesso, ma so che volevi proprio provare le brezza del salto in alto. Sì. Del salto in alto. Neanche del salto in lungo. Quello magari sì, visto che hai fatto quattro figlioli, penso che il lungo ce l'hai fatta bene. È vero, è vero, è vero. È vero. È che sai. Altri tempi. Altri tempi. Ci vediamo domani. Ciao.